Ciao a tutti! Nuovo video Health Kitchen e questa volta si tratta di tre ricettine semplicissimi quindi sono più che delle ricettine quasi delle idee per dei dolcetti natalizi molto carini da vedere molto belli da presentare secondo me nella tavola e anche super super facili da realizzare perché lo sapete se ce la faccio io ce la può fare chiunque in ogni caso vedrete tutto nel video quindi non mi perdo in chiacchiere e noi ci spostiamo in cucina iniziamo con la prima ricettina e ci servono in marshmallow il cioccolato e le candy cane per prima cosa vado a prendere il cioccolato questa volta lo uso fondente quindi io non le ho mangiate e vado a scioglierlo in microonde ma potete anche tranquillamente scioglierlo a bagnomaria e nel frattempo preparo con le candy cane una parte solamente perché un'altra parte ci servirà una specie di poltiglia quindi le potete rompere come preferite intanto il cioccolato si è fuso e quindi posso andare a creare la mia composizione aiutandomi con uno stuzzicadenti vado a prendere il marshmallow e l'immergo fino a metà all'interno del cioccolato in modo tale che appunto una parte venga ricoperta e l'altra resti bianca e poi vado a ricoprirla con la granella di candy cane che avevo realizzato prima e a questo punto allargo leggermente il buco che avevo creato prima con lo stuzzicadenti e vado a inserire metà candy cane in modo che creino una specie di ombrellino e questo è il risultato finale quindi la nostra mini ricetta è già pronta passiamo alla seconda e in questo caso mi servono caramelle, marshmallow e un po' di stuzzicadenti perché andrò a creare dei pupazzi di neve taglio in due una parte dei marshmallow e poi inizio con gli stuzzicadenti o se preferite con la colla alimentare quindi qui ho creato il corpo e il viso del nostro pupazzo di neve vado a mettergli il cappellino e utilizzo queste caramelle che sono le more rosse poi vado anche ad aggiungere sempre dei marshmallow come braccia e gli metto la sua sciarpina fatta con le liquirizie rosse è il momento di decorarlo e vado a prendere il cioccolato per creare gli occhi, la bocca sempre servendomi dello stuzzicadenti ovviamente e anche i bottoni della giacca e poi con un po' di colorante alimentare rosso o se ce l'avete arancione a me piace di più rosso vado a creare il naso e questo è il risultato finale sono molto molto semplici da realizzare ma davvero fanno un bellissimo effetto passiamo all'ultima mini ricetta dove mi servono i marshmallow, il cioccolato bianco, i glitter alimentari, gli zuccherini qui vado a sciogliere come al solito il cioccolato bianco e poi utilizzando questi bastoncini che io ho comprato online ma credo si trovino in vendita potete anche utilizzare delle cannucce eventualmente e li usate proprio per infilzare il marshmallow e andare poi a riempirlo e ricoprirlo con il cioccolato bianco fuso che è veramente qualcosa di buonissimo a questo punto possiamo andare a decorarli a piacimento io ho usato la granella di zucchero e anche i glitter alimentari quindi ne ho fatti tre con la granella e due con i glitter e alcuni ho anche deciso di incartarli per rendere il tutto un pochettino più natalizio come fosse un regalo per rendere più carina la presentazione ho preso un vasetto che avevo in casa e del nastro che ho comprato dai cinesi e questo qui mi piace con le renne tantissimo l'ho semplicemente usato per ricoprire il barattolo e poi ci ho infilato del cotone che rende ancora più carina l'idea del Natale e questo è il risultato finale e queste sono le tre mini ricettine di oggi lasciatemi un like se volete vederne altre di Natale e io vi mando un bacione grazie 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 a tutti.